ok andiamo a fare la foglia del nostro tulipano questa è il gambo vedete questo e questo allora per chi non mi ha seguito questo è il terzo tutorial che faccio di ricamo punto vittura eccolo qui abbiamo fatto il tulipano lilla questo rosa e poi oggi andiamo a finire con la nostra foglia il gambo allora io sto usando le marche quelle che ho e cioè dmc mulinet anchor mulinet e poi c'è una marea di questi rotolini della dmc numero 8 ce l'ho anche numero 5 veramente però numero 8 corrisponde a tre fili del mulinet di qualsiasi tipo allora questi non scolorano sono marche buonissime pipin pupa se voi volete usare allora oggi non ho fatto in tempo non mi è arrivato il filo di seta volevo provarlo su un diciamo un altro piccolo imparaticcio come ne chiamo io e ma non mi sono arrivati poi ve lo dico dove l'ho presi quanto costano se scolorano non scolorano e via discorrendo ok adesso per prima un'altra cosa questi sono vabbè il ditale classico e questi sono dei copri dito comprati in questi mercati in questi negozi a poco prezzo eccoli qui guardate guardate ditali cucito ditalia ce ne sono uno due tre quattro mi pare o cinque boh non mi ricordo un euro e trenta ok e a me mi sta salvando il dito perché questa forza di tirassù perché io ecco non ho fatto un bel po di sti di sti fiori e poi l'avete visti no eccoli guardate e uno poi dopo ve li faccio vedere tutti insieme due e insomma è una settimana che ci sto sopra al ricamo perciò il dito questo qui mi si era tutto bucacchiato di lato questo fa forza di tirare praticamente mi si era ferito qui mi si era aperto quest'altro quando vado a mettere giù l'ago si sforacchia tutto e questi sono meravigliosi per un euro e trenta fanno il loro lavoro ok passiamo adesso al ricamo come potete vedere qui ho fatto il ambo l'ho miscelato con questo verde bottiglia quello più forte che avevo con un po di verde chiaro la punta di questa foglia l'ho fatta bianca è l'ho fatta bianca e poi sono andata a scendere per esempio il moulinè che ho io e questo vedete queste ha diverse sfumature di colore allora che faccio so che a me serve dopo il bianco quello più chiaro e allora io se c'ho prima all'oscuro taglio lo taglio per avere subito la sfumatura del chiaro e poi vedete ho preso un altro colore un verde piatto in modo da creare le tre tonalità chiaro cioè il bianco la luce poi leggermente più scuro e alla fine qui sotto c'è l'ombra verde più forte così ho fatto sul gambo adesso andiamo a fare la stessa cosa sul gambo e sulla foglia la foglia la possiamo fare o come ho fatto io e cioè ricamarla tutta quanta interamente oppure fare il centro e poi andare in obliquo per traverso però siccome la foglia non è piccola ci ho provato a me non mi è piaciuto perché rimane troppo bombata per come è ripreso il punto da quell'altra parte ok ciò l'ho guastata e l'ho fatta in questo modo poi o possiamo fare il centrale con il verde forte per prima prima cosa e cioè l'ombra facendo l'ombra e poi passare tutte le altre sfumature però e ci vuole più tempo bisogna fare tutta una ginganetta uscire di qua di là insomma in questo modo se fa prima raga e siccome qua abbiamo chiamato un lenzuolo e io mi voglio spicciare perché dai dobbiamo fare altri tutorial ok adesso piazzo il video sulla sulla parte che andiamo a ricamare lo ingrandisco e ci vediamo a frappè ok la foglia in primo piano perché voglio andare a fare questo vedete io ho questa sfumatura di rosa che parte dallo scuro e poi più delicato poi va sul bianco allora voglio fare un ricamo sul un richiamo sulla punta della nostra foglia di rosa e allora che cosa faccio guardo la mia il mio filato e vedo che qui è troppo forte e allora lo taglio lo sta ok così lo vedete gli tolgo la sfumatura e vado ad iniziare la mia foglia con il rosa pallidissimo pallidissimo che invece del bianco ci metto questo rosa pallido pallido pallida luna che qua non si vede niente aspettate il fatto che non è facile raga perché c'è sto coso e sto tutta mezza storta sto avvicino troppo allora perché ho visto che non tante non hanno capito io inizio sul dritto così guardate vedete 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 anzi se vogliamo facilitarci perché ho notato che quando uno inizia poi è facile che scappa ci facciamo un nodo cafonino aspettate che non ce la faccio così guardate anche più grande e infiliamo sul dritto il nostro ago lo teniamo così vedete e andiamo con dei piccoli punti sulla zona dove dobbiamo andare in questo caso la punta e adesso andiamo a fare la punta della nostra foglia ve l'ho fatta vedere pure l'altra volta se inciampato raga ecco qui ce l'ho fatta ok andiamo sulla punta vedete la mano sinistra sta sotto al telaio e tira il filo facciamo la punta il filo che noi con cui noi abbiamo iniziato sul dritto del lavoro verrà poi coperto dal lavoro che andiamo a fare giusto ecco e il nodo logicamente che ci lasciamo sto fiocchetto belletto belletto lo andiamo a tagliare adesso ma non proprio subito come subito è un bimbi centrale andiamo laterale bu 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 eh sono contenta perchè questo è l'ultimo fiore eh raga ecco qua le mancine eh sono vagilitate perché guardate con la sinistra vedete voi tirate sul lago ma io non ce la faccio vedete sto spingendo eh devo prenderlo perché con la destra io vado sotto e sopra la mancina invece che cosa fa tira il filo e poi vedete quanto tempo ci metto io zenghete vedete non ci azzecco nemmeno perché? perché non ho la forza e spinge sul lago e lo prende con la destra è semplicissimo semplicissimo allora adesso è giunto l'ora di tagliare questo perché sicuramente il nostro coso non si toglie il nostro filo non ci scappa ecco da un po' di tempo adotto questa soluzione se no impila rimpila su e giù su e giù eh raga vi ho detto che è un punto lungo un punto corto all'incerca eh ragazze se in quel momento dovete fare due punti corti e due punti lunghi fregasene l'importante è che voi il filo il ricamo vedete io qui lo sormontate un po' cioè vedete questo puntino io non vado qui vado più su perché se no sarebbe un altro tipo di punto vedete è un bianco però che ridà sul rosa ma eccolo qua qui sopra ci passo perché poi ci vado con il mio verde bottiglia e facciamo prima l'importante è che voi tirate con la sinistra il filo lasciatela sempre sotto anche se non riuscite con me a tirare l'ago con la sinistra sopra come fanno le ricamatrici va bene lo stesso lavorate con la la destra su e giù su e giù per fermarlo eh perché adesso io vado a mettere altre sfumature facciamo la stessa cosa su e giù su e giù su e giù pp 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 e fermiamo il nostro filo a dritto ok ecco tagliamo e reiniziamo con una nuova sfumatura questa questa qui lo vedete come è chiara chiara vedete la mettiamo su questo rosa pallido vamos infilo e voilà andiamo con il verde pallido ci ho fatto il nodo l'ho tagliato quello che vi ho fatto vedere prima possiamo sfumare con il nostro verde su rosa ci ripassiamo vedete dove vediamo che ha coperto poco possiamo anche ripartire dal basso verso l'alto 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 mi ricordo che questi ve li ho dati questi tutorial uno dietro l'altro così ci spicciamo ogni giorno ne ho mandato uno non ho fatto forza è caduto un lago un po di pazienza papa papa sono fatta una piccola merendina con le noci le mandorle perché raga è qua a meno pausa la vecchiaia con la vitamina d e allora merenda ci facciamo un pizzico di queste mandorle della frutta secca un piccolo pugnettino non ha guindata o funziona quando mi prendono degli attacchetti di fame io prendo un misto mettono ci mandorle e insomma e poi ci stanno pure che è i frutti di bosco essiccati buono mi piace invece di mettersi in bocca un biscotto che non serve a un cavolo ci serve solo per farci ingrassare a parte io faccio i dolci con quattro cucchiai di zucchero faccio la stessa cosa il ciambellotto un po di latte ecco l'olio extravergine ma anche un pezzetto di burro non è che il burro il veleno è ci metto 20 30 grammi è buonissimo lo stesso ok finisco il mio verde pallido parli da luna e poi lo vado a sfumare con quello più scuro e cioè e faccio vedere subito vedete prendono l'infilata di questo e prendo la parte più scura ok lo vedete il filo come sta cominciando a diventare più forte il colore lo sfumato vedete dovete gestire un po il colore poi noi stiamo facendo delle cose semplici e potevamo fare ma abbiamo più la piano piano facciamo tutto ragazze magari la foglia che è un po girata vi faccio vedere come fare o o anche non so una goccia sul fiore di acqua un po vedesse vedi la signora ha detto non ha mica detto o gabri facci vedere un po più a lungo che fa due tre dai prolunghiamo un po di più fatto che qua per fa una foglia non è che c'ho mezz'ora né un'ora ci vuole il tempo che io l'ho fatta prima ma quell'altra non ho guardato però ci vuole il tempo capite dopo la gente si scoccia mi scrive quando sei lunga non voglio non sta ad ascoltare quello che dico capite allora io che cosa faccio e gli dico cambia canale che questo è un'epte vai vai mi ci diverto a riprendere un po in giro perché perché sta gente deve essere un po riprese in giro mia nonna ti diceva rispondi a tono con educazione ma non ti fa passare non passare per stupida perché poi se ne approfittano capite io lo dico sempre bisogna farsi valere sempre con le dovute maniere ci fa pura rima oppure magari con i sorrisi in bocca con una battuta tanto queste manco la capiscono la battuta è inutile a volte quando proprio sono insolenti non rispondo per niente perché non mi abbasso a rispondere mi succede raramente veramente in tre anni quattro quando ne so mi è successo molto raramente però ma no non mi piace sottostare da brava riete a delle insulsaggini a delle provocazioni allora piglio e blocco perché se un tutorial non mi piace io non lo guardo ma certo non vado ad offendere chi lo fa apprezzo sempre vedete già come scurisce il filo vedete e a questo punto noi possiamo usare un filo piatto e cioè senza più sfumatura eccolo questo qui vedete vedete quello tutto un colore in modo che noi facciamo la fine della nostra foglia poi iniziamo un po' il nostro gambo e lo sfumiamo un po' fino ad arrivare come ho fatto qui vedete facciamo dei punti un po' più allungati perché il gambo non è che sta attaccato qua sotto e via come come sta sul disegno e allora che ci ripasso il filo mi sta finendo e ora che chiudo sempre al dritto così vedete piccoli punti piccoli passaggi in modo col dito sotto incappucciato di plastica noi ci passiamo viviamo piano 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 ci ho fatto pure una sfumatorina verde ok infilo questo tutto un colore ok ok ho iniziato più su vedete e sto creando una sfumatorina di lato così improvvisate create che vedete che le cose sono ancora più belle non ricamate sempre con lo stesso colore tutto rosa tutto giallo tutto sembra delle patacche lì messe lì senza nessun significato devi sempre controllare se si vede vedete già com'è più scuro la gradazione come quando ci andiamo a fare le mesh il degradé questo è un degradé lo chatouche non so neanche che è lo chatouche lo chatouche mi sembra il colore sotto no? mi pare allora ragazze io sono una donna fortunata perché mia madre a 80 anni aveva i capelli ancora scuri così le sue sorelle e così mio pare perciò nel mio dna io i capelli bianchi alla mia età 65 anni ce n'ho pochi un filo qua e là e allora per non far vedere questi questi fili perché non ho la ricrescita e ho la parrucchina metto facciamo un po' di mesh e via però è il mio colore di base è scuro e a volte penso di aver sbagliato ma vedete sono scesa ma adesso risalgo perciò voi con l'ago potete spaziare come più vi piace ok ragazzi proseguo da sola vogliamo far dispetto a chi non ha tempo da perdere se ne frega noi stiamo insieme perché ci piace io faccio questo perché mi piace non certo perché sono costretta non mi costringe nessuno ma uscita e com'è quel detto che dice dove c'è gusto non c'è perdenza non si perde mai quando ti piace fare una cosa ok ragazze scendo fino qui ecco sto finendo guardate con il verde e adesso facciamo la rigatura la venatura della foglia centralmente e adesso facciamo la rigatura e adesso facciamo la rigatura all'angoletto perché capite per farlo venire un po' preciso anche se come diceva nonna alla san verettese precisa sa mort non esiste ok adesso chiudo vedete piazzo il mio ditone sotto per non farmi punge e intramezzo lago per chiudere che ragazze io per fare la venatura della foglia ho messo il mio perlè numero 8 doppio perché non avevo non ho di questa di questo colore scuro il mulinè se voi avete il mulinè mettetelo invece di tre volte mettetelo 4 5 ma non tutto tutto è troppo ma penso anche 4 io non l'ho provato per niente in caso voi provatelo su un coso avete detto lo metto doppio doppio ho preso la cappiola e vado a fare la rigatura così faccio prima l'ho visto scopiazzando da queste signore che fanno delle cose stupende vedete come si nata di più non è un punto erba è sempre il solito punto ripreso che comunque simula un punto erba state attenti sotto a non fare inciampare il filo poi ci ripassiamo facciamo una venatura la seconda venatura e torniamo sopra fatemi vedere se si vede si è troppo piccola ci ripasso un po' vedete magari da quest'altro lato lo rafforzo d'accia un po' Concentrazione. E chiudiamo. Il gambo lo facciamo non doppio, solo questa definizione. Ok, vado su e giù e chiudo il filo. Aspettate che forse prima non si è visto. Ho fatto la definizione della foglia. Questa adesso le faccio vedere. Che mi sono spostata. Questa qui. Ecco perché tutti quegli altri si mettono lo schermo davanti. Perché è difficile, è difficile. A meno che uno non ti riprende. E chi sta qua ore e ore a riprenderti? Giù pensate che lo fa mio marito perché non lo farà mai e poi mai. Figurarsi. Senza parlare dei figli. Poi i figli hanno la loro vita. sanno a perdere tempo con noi. Iscrivetevi. Iscrivetevi numerosi. Andiamo a fare questo. Il gambo. Infilo il filo. Ok, sono entrata? Sul gambo. Entriamo sopra. Ho trovato un'infilata dentro a quei miei quattro cassetti. Di questo oro e un verde più marcio. Ho detto che non lo prendo. Mi è piaciuto. Allora, che mi raccontate di bello? Allora, che mi raccontate di bello. Questo è un punto molto polietrico. È come la pittura. Se una cosa non viene bene, noi possiamo ripassarci sopra, creare un altro tipo di sfumatura. di colore, no? Vedi la sfumatura? Come cambia? Si rafforza. Voi tenete sempre presente questo. La sfumatura chiara la mettete in alto. Quella scura la mettete in basso. A meno che il fiore è capovolto, no? Al contrario. Ok, ragazze. Proseguo. Come solito. Come solito. Vi voglio far capire. Vedete? Questa è quasi simile a questa. Io adesso lo chiudo il filo. Questa tipologia di filo. E prendo questo verde bottiglia qui. Aspettate un attimo questo. Capite? In modo che la fine mi va a, diciamo, sta dietro, no? Il gambo sta dietro la foglia ed è più scura e la foglia mi risalta. Ok? Ok, vedete? Ho messo questo verde bottiglia. Salgo per sfumarlo un po'. Se non è troppo, fa troppo il trattonetto. Ecco che cosa voglio dirvi. Perché adesso non è un degrade. E allora io questo colore lo intramezzo su quello che ho fatto prima. Vedete? In modo da dargli una sorta di sfumatura più naturale. na la 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 da mostro ciuffetto e abbiamo finito ragazze poi quando mi arrivano i fili di seta ve li faccio vedere costano pochissimo vediamo che roba è 50 matassine non so quante quanti metri sono magari ci stanno 33 infilate adesso smonto tutto e vi faccio vedere il colpo d'occhio del lenzuolo finito ok chiudo fermo il filo prima di smontare vi faccio vedere rimpiccolito il ricamo che mi tolgo tutto poi dopo con calma c'è da rimettere a posto tutti sti fili per non carli perché lo smezzati tutti e adesso vi faccio vedere il casinetto che c'è pipì pipì per un cucchiaino non so perché cosa mi è servito ok dai smonto tutto ecco ragazze guardate questo è quello che abbiamo fatto adesso che gira allora chi vuole vedere come ho fatto i disegni come l'ho piazzato va a vedere il mio tutorial che ho fatto mercoledì scorso l'ultimo infatti da giovedì ho iniziato a ricamare e oggi che è che io solo sto registrando oggi è mercoledì una settimana per fare queste meraviglie questo per dirvi che noi non stiamo in poltrona con le mani in mano come potrebbe pensare la gente noi ci diamo sempre da fa ecco qua e questo è l'ultimo infatti sono uno due tre quattro cinque eccoli vi è piaciuto il mio tutorial iscrivetevi dai iscrivetevi numerose se non vi scrivete non ve lo faccio il tutorial quello del ricamo a macchina perché quello è poi devo ripiare la mano pure per quello e quella nessuno lo fa vedere nessuno perché è difficile prima cosa seconda cosa ci vuole una manualità spaventosa molto peggio di questo perché a mano uno è invece con la macchina devi gestire la macchina il pedalino devi gestire tantissime cose capite e allora vi ringrazio vi mando un bacio mettete mi piace condividete pimpupa e iscrivetevi mancano mi pare mille iscritti per 50.000 dai su fatevi sta cortesia alle signore che non si sono iscritte e che mi seguono però assiduamente ciao qualsiasi cosa chiedete e qua ce ne manca un pezzo ecco 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 qui così ve lo potete studiare bene l'esfumatore dei colori e come l'ho fatti come potete vedere il disegno è sempre quello ma non ci sta anche queste gialle azzurro queste gialle azzurro sono nettamente diversi perché il mio cervello la mia mano va in quel modo non l'artigiana che cosa fa crea e non è mai uguale le cose che fa ok non sono mai uguali ma anche perché sarebbe una noia mortale fare sempre la solita cosa ciao un bacio